Eccoci qua, buongiorno a tutti anche per questa settimana, ci stiamo avvicinando come sapete alla fine del corso, quindi stiamo cominciando a ragionare in termini di ultimi argomenti da svolgere e preparazione per l'esame. Quindi in questa settimana cercherò di pubblicare anche per iscritto le regole d'esame che abbiamo condiviso la volta scorsa e quello che vi so già dire per il momento è che stiamo organizzando per le ultime due settimane del calendario, nel mercoledì mattina, quindi al posto del laboratorio, faremo delle simulazioni d'esame. Quindi si tratta adesso, non mi ricordo mai in memoria il calendario, ma dovrebbe trattarsi del mercoledì 10 e mercoledì 3 se non sbaglio, che sono gli ultimi due settimane di lezione, magari vado a prenderlo qua così, le elezioni finiscono il 13 giugno e quindi le ultime due esercitazioni sono quelle del mercoledì 10 giugno e quelle del mercoledì 3 giugno. In queste due esercitazioni di laboratorio vi proporremo un'attività che sia esattamente allineata alle modalità d'esame che svolgeremo. Quindi vi daremo un testo nuovo che non pubblichiamo prima, non lo diamo solamente al momento, così come avviene l'esame. Vi chiediamo di svolgere il laboratorio e consegnarlo, poi non verranno valutati ovviamente questi laborati, a meno che voi abbiate domande, chiediate ma è giusto o sbagliato, allora chiaramente vi diamo consulenza, ma non li correggiamo, non vi diamo il voto. Però almeno, diciamo così, ci rodiamo sia sui tempi che sugli strumenti che useremo durante l'esame. Anche lì faremo una sorta di sorveglianza, anche se, diciamo così, sarà fittizia, ma così riusciamo a testare tutto, la banda, la telecamera, le modalità, gli strumenti, eccetera, eccetera. Quindi, questo poi lo scriverò anche in un messaggio, così arriva a tutti, anche chi non ha voluto essere presente oggi. è importante la partecipazione a queste ultime due esercizioni di laboratorio. Cambieremo un po' l'orario, faremo un turno solo di due ore, perché così tutti in sincrono riusciranno a lavorare su questa simulazione d'esame. In modo da arrivare, diciamo così, un pochino più rodati a quello che è la data dell'esame che sarà prevista per fine giugno, il primo appello. Io ho scritto la data provvisoria, dovrebbero pubblicare entro il 15, quindi entro la fine di questa settimana, le date definitive di tutti gli esami, la data provvisoria che ho per il primo appello è del 26 giugno. Quindi noi, tra il 10, facciamo queste prove, ci sono ancora due settimane per poter eventualmente aggiustare, se poi avete bisogno, possiamo anche organizzare una sessione di consulenza a metà in quelle settimane che vanno dalla fine delle lezioni fino alla settimana prima dell'esame, se vi può far piacere, sia per risolvere problemi tecnici che dubbi dell'ultimo momento. Fino ad allora, quindi prima di quelle due settimane, continuiamo normalmente con le esercitazioni, concludendo la tematica dei grafi, quindi i grafi lavoreremo ancora un po' nella prossima settimana, ma nel frattempo della prossima settimana già inizieremo ad introdurre l'ultimo argomento che è quello delle simulazioni, e quindi ci saranno ancora due laboratori sulle simulazioni, che è quello del 20 e del 27 di maggio, con il che alla fine abbiamo concluso il programma. E lasciamo le ultime due settimane sia in laboratorio, sia anche nella video lezione per svolgere gli esercizi. Quindi anche le ultime due settimane non introdurremo più nuovi argomenti, ma semplicemente faremo esercizi insieme. Magari facciamo qualche esercizio in diretta, così come abbiamo fatto già nell'esercizio durante il corso, ma lo facciamo partendo da temi d'esame, non da esercizi, diciamo così, mirati ad introdurre un nuovo argomento. Quindi questo qua è grossomodo ciò che ci aspetta da qui alla fine del corso, che si tratta di uno, due, tre, quattro, cinque settimane compresa questa. Quindi siamo abbastanza, diciamo così, ben incamminati verso la fine. Questo dal punto di vista organizzativo. Per il resto direi che non ho altre, grosse altre novità da raccontarvi, e quindi mi metto a disposizione, come al solito, per le vostre domande e curiosità, o richieste. Oh, assolutamente sì. Allora, condividiamo lo schermo per dare risposta a Gaia. Dunque, dovrei già condividi lo schermo, che qui tutte le volte non lo trovo. Share screen, ecco qua. Qui. Allora, la domanda di Gaia è questa, che vi subincollo, cosa rimane nel video. che chiede se, quando io faccio la visita in profondità, implementandosi, diciamo così manualmente, la procedura ricorsiva, come faccio a richiedere gli adiacenti un vertice che non si interroga il database. assolutamente non bisogna interrogare il database, nel senso che se io ho un grafo, il grafo conosce già gli adiacenti. Quindi io prima costruisco il grafo, prima di tutto, quindi per ogni vertice ho già inserito gli archi. Quindi quando io, all'interno della procedura ricorsiva, dato un vertice e voglio trovare gli altri, allora interrogerò i vertici adiacenti al vertice dato. Quindi in un grafo semplice potrei usare, andiamo a prendere la documentazione di jgraph.t, c'è il metodo di utilità che mi dà tutti i vertici adiacenti a un vertice dato. Quindi prendiamo la documentazione, ad esempio javadoc, e nella classe, nel package jgraph.t, se non sbaglio dentro graphs, abbiamo il metodo, eccoli qua, neighbor list of, che è il metodo che dato un grafo, è dato un vertice, mi istituisce la lista dei vertici ad esso adiacenti. Ovviamente poi da questa lista, quando faccio la procedura ricorsiva, dovrò cancellare i vertici che sono già stati visitati, altrimenti rischio di tornare sotto. Quindi ho il grafo, e quindi dato un vertice, è il grafo stesso che mi dice quali sono i vertici adiacenti, non devono tornare al database e richiedere, altrimenti sto sparando tantissime query che non sono utili, cioè mi rallentano solamente l'esecuzione del programma. Questo neighbor list of va bene per i grafi che sono, quindi è un metodo di graphs della classe statica, va bene per i grafi non orientati. Se invece vogliamo un grafo, abbiamo un grafo orientato, e quindi la visita deve seguire ovviamente la direzione dell'arco, devo usare il metodo successors list of, che sono i successori diretti, quindi funziona attraversando solamente gli archi orientati, e mi istituisce sempre la lista dei vertici che si raggiungono, quindi sono su un vertice e mi da tutti i successivi. Seguendo tutti i possibili archi uscenti dal vertice dato, e mi da l'elenco dei vertici a cui si può arrivare. Per completezza esiste anche il predecessore, la lista di tutti i vertici predecessori, che attraversano gli archi di un grafo orientato all'indietro, però in questo caso non ci serve nel caso della visita. Quindi il grafo è una struttura dati, e quindi usiamolo proprio per interrogarlo, per ottenere le informazioni che ci servono. Questi metodi sono metodi di comodità, che ci sono nella classe graphs, perché se vogliamo il metodo più di basso livello sarebbe di usare all'interno del grafo il metodo edges of. Dato un vertice mi da l'insieme di tutti gli archi che incidono su questo vertice, solo che poi una volta che ho l'insieme degli archi devo un pochino lavorare per capire quali sono entranti, quali sono uscenti, e per ciascuno di questi qual è il vertice dall'altro lato, che è il lavoro che i get neighbors, i metodi che abbiamo appena visto, invece ci fa già in automatico. Ma si basa essenzialmente su questa informazione, edges of che è l'informazione inserita dentro il grafo. Tornando là, così scriviamo la risposta anche nel... ... Grazie. L'ultimo punto, l'avevo detto a voce prima, dopo che ho trovato i vicini devo ovviamente cancellare i vertici già visitati e questo mi raccomando facciamolo, non facciamo il doppio ciclo, ma usiamo i metodi delle list, delle collection. Quindi il removal in questo caso sarebbe, quindi trovo i vertici adiacenti e da questi removal i vertici visitati, se non facciamo qui questi cicli per dire ma io questo vertice c'è di qua, non c'è di là, perché se no perdiamo tempo a fare cicli, quando in realtà ci sono operazioni di più alto livello che lavorano direttamente sull'insieme. Grazie. Altre domande? Cosa intendi con grafo non standard Matteo? Ok. Allora, la risposta dipende, dipende un po' dal tipo di problema. Lo pseudografo di per sé non crea particolari problemi, quindi il self loop non creano solitamente problemi. Qualche problema in più ce l'hanno i multigrafi. Invece sono più complessi a gestire. Soprattutto per quanto riguarda gli archi, ovviamente, perché è la loro particolarità, quindi quando tu definisci un cammino, devi definire quali sono gli archi che hai usato e non i vertici che hai raggiunto, perché avere la lista di vertici in un multigrafo non ti permette di determinare automaticamente l'arco. Sto cercando di ricordare, ma non mi pare che salve qualche esercizio sui cicli, che però poi non abbiamo mai richiamato, non mi pare che abbiamo mai usato dei multigrafi negli esercizi che vi abbiamo proposto. Mentre in alcuni casi i self loop potrebbero essere utilizzati. Però appunto, un grafo che abbia di self loop, dal punto di vista algoritmico, si tratta esattamente nello stesso modo. Anzi, non devi escludere il fatto che devi considerare l'arco tra un vertici e te stesso. Multigrafi sono più complessi, quindi diciamo che probabilmente non ne avremo mai a che fare direttamente. Sto cercando mentalmente di ripassare gli ultimi esami che abbiamo dato, ma quasi sempre sono grafi semplici. Anzi, direi sempre sono grafi semplici. Poi potrebbero essere orientati o non orientati, pesati o non pesati. Quindi queste quattro grande categorie. Quindi diciamo così. Non sono esclusi dal programma, nel senso che comunque li trattiamo, la libreria li può trattare, però diciamo così non saranno oggetto di esame. Fatemelo scrivere così. Allora, Paolo mi chiede se esiste un vantaggio in un'utilizzazione attraverso la lista in apprenditare un grafo rispetto ai metodi connectivity inspector. La risposta ovviamente dipende da cosa voglio tenere. Grazie. Cioè, nel senso che il connectivity inspector mi dà i vertici raggiungibili, mentre invece i traversal listener permettono di fare qualsiasi operazione, visto che le costruisco io, e le componenti connessi, scusate. Qualsiasi operazione legata alla visita, come la costruzione dell'albero di visita. Quindi, se ti interessa sapere quante componenti connesse ci sono, va benissimo, fallo pure con il connectivity inspector che ti dà esattamente già quell'informazione. Se invece vuoi sapere quale è l'albero di visita, allora non mi risulta che ci sia un metodo direttamente che ti venga dato dal libro di JGraftT, e quindi sei obbligato a costruirtelo, costruirti la mappa usando il traversal listener. Come sempre dipende da che cosa ti serve. In realtà, per ottenere le componenti connesse, non serve neanche definire un attraverso la lista, ne basta fare visite ripetute, faccio una visita, e poi, se non ho raggiunto tutti i vertici, rifaccio un'altra visita partendo da uno dei vertici che non ho ancora raggiunto, e vado avanti così. Però vanno bene entrambi, nel senso che dipende appunto da quali informazioni volete riuscire a estrarre. Magari, ecco, apriamo Connectivity Inspector, visto che non abbiamo mai usato nella lezione, allora guardiamo insieme solo rapidamente, qui c'è una classe Connectivity Inspector che ottiene vari aspetti sulla connettività di un grafo. Supporta il calcolo dei componenti connesse per un grafo non orientato, o le componenti debolmente connesse, non le abbiamo definite queste, non ci interessa, mentre invece per trovare le componenti fortemente connesse, esiste un'altra classe che lo fa. Però, come vedete, vi dà solamente informazioni sull'insieme, dato un vertice, dà l'insieme di tutti i vertici che appartengono alla stessa componente connessa. Questo metodo, quello che si restituisce tutto, vi dà una lista di insiemi, quindi per ogni componente connessa, una lista che ha tanti elementi, quanti sono le componenti connesse, e per ciascun elemento di questa lista mi dà l'insieme di vertici che corrisponde a questa componente connessa. E poi, vabbè, qui ci sono anche qua degli event listener che possono essere registrati se il grafo cambia. E poi esiste questo metodo che vi permette di interrogare se esiste un cammino tra un vertice di partenza e un vertice di arrivo. Attenzione che è dato un boolean, quindi non vi dà qual è il cammino. Vi dice c'è o non c'è. Per lui è facile sapere se c'è o non c'è perché avendo calcolato le componenti connesse gli basta sapere, prendo il vertice di partenza, vado a vedere qual è l'insieme dei vertici che appartengono alla sua stessa componente connessa e va a vedere se questo insieme è compreso il vertice di arrivo. Quindi fa semplicemente questo test. Come vedete, parla di componenti connesse e insiemi di vertici, non parla di cammini. Quindi se mi serve il cammino, se mi serve l'albero, da qua non riesco a estrarlo. Se mi chiede quanti sono le componenti connesse, quanti vertici contengono, se il grafo complessivamente è connesso oppure no, questo is connected, che vuol dire che la componente connesse è trovata in una sola, allora questo qua è sicuramente più comodo che non andare ad osservare il traversal listener. e non parla di domenica. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. quello Grazie. Il tema d'esame ovviamente li trovate tutti qua sulla pagina del corso dal 2013 a oggi quindi mi consiglio di partire dagli ultimi quelli del 18-19 e quelli più recenti li trovate anche forse più comodo o meno dipende da voi anche su direttamente su GitHub li trovate qua purtroppo GitHub non ci permette di definire qual è l'orientamento degli elementi lo fa lui però trovate tutti i testi d'esame pronti da clonare anche se appunto hanno questo problema che sono impostati su Java 8 ecco fate attenzione che nei testi d'esame precedenti molte volte veniva rilasciato noi distribuivamo un link a un file zip che conteneva il progetto e quindi le istruzioni parlavano di aprire il file zip importarlo eccetera da quest'anno usando strumento che si chiama GitHub Classroom che appunto proveremo nelle ultime due situazioni invece vi verrà semplicemente chiesto di clonare il progetto che trovate su GitHub quindi c'è nessuno zip da importare quindi da questo punto di vista è più semplice legandosi direttamente a GitHub quindi vedete che per quelli più vecchi il progetto base è un file zip invece per quelli più nuovi c'è già il repository GitHub anche se ovviamente era anche disponibile per essi anche il file zip però essendoci abituati a lavorare su GitHub da adesso in avanti direi che tendiamo a lavorare più su GitHub e all'interno di questi progetti ovviamente dove trovate questo c'è anche il testo c'è un pdf col testo d'esame quindi potete cominciare a raccogliervi questi testi e dare un'occhiata nelle ultime settimane lavoreremo su questi temi d'esame quindi quando finiremo il programma cominceremo a fare nelle ultime due settimane due settimane e mezza gli esercizi d'esame prenderemo principalmente i temi d'esame dell'ultimo anno e li svolgeremo insieme se voi volete vedere le eventuali soluzioni degli esercizi degli anni prima molto probabilmente le soluzioni non di tutti ma di tre probabilmente appelli su quattro dell'anno 2018 le abbiamo svolti alla fine dell'anno accademico precedente quindi potete andarvi a ripescare le ultime video lezioni dell'anno scorso che tanto sono tutte sempre su YouTube e potete vedere anche la risoluzione fatta insieme e nel repository del GitHub dell'anno scorso ci trovate anche i progetti Git noi non mettiamo le soluzioni qua insieme ai temi d'esame perché magari la soluzione svolta in aula svolta insieme è una delle possibili quindi qui rimane pulito rimane il tema d'esame qui vedete anche in alcuni casi c'è una simulazione d'esame che è esattamente quello che faremo questo l'abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso lo rifaremo a giugno del del 2020 questo strano giugno è un po' è un po' ci sono altre richieste? grazie a tutti come vi trovate in termini di di preparazione per l'esame nel senso che riuscite a seguire gli argomenti i ruoli degli esercizi senza diciamo così non dico senza problemi perché ci sono alcuni argomenti che non sono semplicissimi ovviamente ma il tipo di di materiale che vi stiamo fornendo il tipo di supporto vi è sufficiente o avreste bisogno di qualcosa di più o di qualcosa di diverso questa è la domanda che io mi faccio almeno tre volte al giorno quindi adesso che siete tranquilli con le domande vi faccio una domanda io qualcuno altro Matteo si vuole esprimere sto ricevendo qualche feedback positivo mi fa piacere chiaramente il vantaggio è che essendo un corso che è attivo e vivo da cinque anni questo è il sesto c'è già molto materiale pronto e anche per noi è facile stimare i tempi perché sappiamo già dove trovate delle difficoltà quindi un pochino più facile rispetto ad altri corsi che invece vengono fatti ho un altro corso io che viene fatto da zero per la prima volta in questo modo quindi ho moltissimi dubbi sul fatto che sto andando troppo veloce troppo piano non sottovalutate però il lavoro di laboratorio da parte vostra quindi la cosa più importante è che voi riusciate riusciate a svolgere questi esercizi e riusciate a sbloccarvi perché sicuramente poi quando uno iscrive si blocca in un certo punto c'è un baco la parte difficile in cui diciamo così fatichiamo a darvi supporto è quello proprio di riuscire a dire ma ti sei bloccato perché? Qual era l'errore? Quindi fare un po' di debugging insieme questo qui ci manca quindi vedo con Telegram molte volte riusciamo a aiutarci mi fa molto piacere che in ultimi giorni abbiate cominciato anche a parlare tra di voi forse entrate nel vivo forse cominciate a fare versetti un pochino più complessi ma tranquillamente se io vedo che vi rispondete tra di voi non intervengo sono ben felice che lo facciate perché così cresciamo insieme svolgere la situazione dice Matteo in due ore come fosse l'esame è molto difficile ma suppongo che sia dovuto alla preparazione tenete presente che le restazioni di laboratorio sono su argomenti nuovi che abbiamo appena visto quindi la prima volta che affrontate un certo tipo di argomento e quindi dovete capire l'argomento capire come funzionano le funzioni ogni volta magari il dataset è diverso e quindi c'è un certo tempo che viene speso infatti il laboratorio dura tre ore e molto spesso chi lo inizia da zero non ce la fa in tre ore di tempo ecco l'esame è un pochino più strutturato nel senso che già il database lo conoscete già prima arrivate lì con un progetto base con dei punti ben precisi da da svolgere e di solito il primo punto è molto fatemi dire standard ovviamente non si fa da solo il codice lo dovete scrivere voi però si tratta di fare delle query si tratta di di costruire un grafo quindi sono cose che abbastanza abbastanza ripetitive ogni volta è diverso ma grossomodo il canovaccio se uno sa cavare è lo stesso quindi da quel punto di vista l'esame è meno soprattutto sul primo punto ci sono meno sorprese rispetto meno novità rispetto a quello che sono i laboratori poi è chiaro che richiede un po' di allenamento come dici tu non è solamente la preparazione in termini di conoscenze ma anche proprio solo l'allenamento pratico mettersi lì e provare a svolterlo per quello che vi consigliavo di cominciare a dare un po' un'occhiata a questi temi d'esame grazie 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 visto che siete online vi sfrutto mi aiutate a fare una prova che appunto in vista dell'esame se vi chiedessi di condividere per un attimo il vostro desktop per vedere quanto tempo ci vuole se ci riuscite facilmente e cosa succede se più di uno cercasse di condividerlo perché questo è quello che ci manca in un certo senso noi faremo videosorveglianza vedremo inquadrato in primo piano la vostra faccia o il vostro naso mentre state scrivendo al computer però come vi ho raccontato nel breve esame vogliamo anche riuscire a vedere quello che c'è sul vostro desktop quindi c'è qualcuno che ha voglia di provare a cliccare sul bottone condividi share dovrebbe essere da qualche parte un bottone verde nella toolbar di zoom chiudete le cose che non devo vedere o che non volete che gli altri compagni vedano si prova pure Matteo ti da un erro dici che non possiamo mentre un altro sta già condividendo e questa è una cosa antipatica quindi io dovrei smettere di condividerlo perché io allora adesso smettere di condivido è facile si attacca adesso potete potete provare dovreste riuscire in teoria ok in questo caso c'è Sonia che sta condividendo il suo cagnolino se qualcun altro provasse ad aprire in questo momento ci riesce? no vero? no ah però un attimo proviate adesso perché qui c'è un'impostazione che dice più partecipanti posso condividere allo stesso tempo ok provate adesso qualcun altro a condividere ok quindi sto io sto vedendo in realtà uno schermo doppio quindi su uno schermo sto vedendo Francesco e sull'altro lo sto vedendo Sonia chissà se riesco a vederli insieme chiederei il favore ancora a una terza persona così vedo cosa succede Federico in teoria sto condividendo ottimo buono sapersi ma io non lo vedo quindi devo andare a vedere dove me l'ha messo ah ecco qua vedo Federico vedo Francesco li posso vedere posso comutare da uno all'altro vedo Gaia vedo Matteo voi potete vedere cioè scegliendo chi volete vedere riuscite a farlo ok nelle view options quindi da un lato è positivo perché se voi condividete potete condividere più di uno per volta e si può comutare tra l'uno e l'altro la cosa un po' meno bella è che ciascuno può vedere infatti lo pensavo per l'esame il problema è che io posso in questo modo posso diciamo così sbirciare sui vostri schermi che non è male il problema è che lo potete fare anche voi e quindi ciascuno di voi può vedere lo schermo dell'altro che non è il massimo in un contesto d'esame ovviamente dal punto di vista nella chat è possibile è possibile bloccarlo nel senso che io posso nella chat dire potete chattare solamente con l'organizzatore del meeting con me oppure adesso c'è un canale everyone in cui si iscrive a tutti quindi dobbiamo un po' vedere questa cosa qua se si riesce a disabilitare in modo che nessuno di voi quando abbiamo fatto questa operazione di condivisione ha avuto problemi di rete ho visto nessuno si è disconnesso ha notato un rallentamento un blocco di tutto perché poi c'è anche questo altro problema che se condividete schermo desktop eccetera poi la vostra connessione internet rischia di soffrire ok buono sapersi questo potrebbe essere un buon modo anche abbastanza rapido diciamo così per controllare il desktop di tanto in tanto si può fare un giro potrò forse chiedere condividete dare un'occhiata va bene grazie per l'esperimento va bene ci siamo abbiamo giocato un pochino tra l'altro questa modalità qui se volete si può anche usare per consulenza nel senso che se magari ci sono dei problemi che via telegram o via mail non si riescono a risolvere al volo è molto semplice per noi sia vedere quello che avete sullo schermo che direttamente prendere il controllo del vostro mouse della vostra tastiera e quindi andare direttamente a lavorare sul vostro programma quindi non non fatevi problemi se avete bisogno si condivido un link si fa un meeting al volo e magari bastano tre minuti o cinque minuti per trovare un problema in questo modo man mano anche come dicevo la settimana prossima quando ci rivedremo magari avete provato a fare qualche esercizio se qualcuno di voi ha delle domande magari anche condividiamo il codice lo guardiamo insieme e ci mettiamo le mani insieme così ci annoiamo a meno e lavoriamo un pochino più con le mani in pasta quindi se qualcuno vuole per la settimana prossima io vi chiederei di dare un'occhiata agli ultimi temi d'esame quindi qui c'è gennaio gennaio è sempre un appello un po' sfigato quindi magari magari non partiamo da questo ma gli altri tre c'è settembre luglio che era diviso in due gruppi e giugno che era diviso in tre gruppi ovviamente di questi tre gruppi ABC guardatene uno solo perché poi di questi turni differivano per poche differenze i turni che faremo adesso in quest'anno invece saranno un pochino più diversi tra di loro tra il turno A, B e C proprio perché non c'è il controllo diciamo così che c'era direttamente in laboratorio ecco dove comunque qualcuno entra qualcun altro esce ma non c'è molto tempo comunque per scambiarsi le informazioni che è molto più attraverà che è un'altra che è un'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.